Allora amici, siamo qui negli stand del Pizza & Village e siamo in compagnia dell'amico Emanuele, che rappresenta l'attività commerciale Willy Wonka, che si trova a Fratta Maggiore e a Mergellina Ah, bene, 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 quindi nel cuore di Napoli Cuore di Napoli anche, sì Ma i napoletani, quale hanno scelto come tua specialità? No, tutti mangiano parte cornetti, ma anche crepe, waffle, facciamo di tutto, graffe, tutto di dolce Quindi invito a tutti i nostri amici di Radio Campania a venirti a trovare Venite presto, perché mangiate veramente dei dolci dolcissimi E quindi noi di Radio Campania cominciamo a assaggiare per voi e poi vi invitiamo all'attività Willy Wonka Che si trova a Mergellina e a Fratta Maggiore A Fratta Maggiore, sì A presto!